Federico Melchiori, innanzitutto come va con la schiena dopo gli ultimi problemi? Sta migliorando, oggi provo a fare un po' di lavoro di attività fisica, vediamo se risponde bene. Stringere i denti per essere presenti in una gara importante, quella con il Frosinone e con la Capolista, una gara che segue quella importante di Brescia dove c'è stata la rinascita del Pescara? Sì, assolutamente, è una gara importantissima, c'è da dare continuità e quindi farò di tutto per esserci. Una squadra importante, costruita bene, che si conoscono molto bene questi giocatori. Non sarà una gara facile ma dobbiamo iniziare a fare risultati positivi qua in casa e venderemo caro alla pelle. La domanda è proprio questa, come mai, insomma, fino ad oggi siete riusciti a fare più punti in trasferta che all'Adriatico? Ma non ne ho idea, il calcio è strano. Poi in un campo come questo dove abbiamo un'arma in più che è il pubblico, non me lo so spiegare. Speriamo di cominciare da domani a fare una serie di partite positive. A Brescia c'è stato questo abbraccio molto forte con l'allenatore, insomma, la squadra se ancora ce ne fosse bisogno ha dimostrato di essere con Baroni. Sì, assolutamente, ma non l'abbiamo mai messo in dubbio. Puntiamo tutti verso la stessa strada insieme al mister. È sempre stato il primo il mister davanti a noi, c'è sempre difesi e noi siamo sempre stati insieme a lui. I risultati magari ci hanno dato un po' contro, però siamo con lui. Per il Pescara fino ad oggi il campionato è stato un po' balbettante, per te però il fatto di gol è andato sicuramente meglio. Insomma, stai dimostrando di essere un giocatore probabilmente anche da categoria superiore. Adesso non esageriamo. Diciamo che è iniziato abbastanza bene, sì. Bisogna però, come sempre nel calcio, bisogna sempre continuare, mai accontentarsi. Quindi il bene, il bello e il brutto che c'è stato all'inizio del campionato non lo guardo. Penso solo alla prossima partita.